Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei prodotti finiti. Come al solito ho tantissime confezioni vuote, quindi parto velocissima e voglio parlarvi subito dei prodotti mani. Allora, creme mani ne ho ben tre, come vedete sono diventate piccolissime perché come al solito io taglio le confezioni per utilizzarle, per utilizzare il prodotto fino alla fine. Sono tre creme mani che non mi hanno fatto impazzire, devo dire la verità. In ordine di gradimento vi mostro la pH bio crema mani 100% biologica con mandorle e carité che è quella che non è piaciuta per niente, pur avendo un costo medio, diciamo intorno ai 3 euro, 2 euro e 70, oltre 3 euro e qualcosa, insomma, non ricordo. Questi sono 75 ml, l'ho comprata da Lidl, perché è una marca che si trova da Lidl, la profumazione è buona, mi è piaciuta un bel po', però devo dire che la crema non serve praticamente a niente, non mi è piaciuta per niente e alla fine l'ho appioppata a Luigi, ho detto termina la tu e tra l'altro ce n'è rimasta anche un po', ancora non l'abbiamo terminata. Comunque non è un prodotto che mi piace sicuramente non lo riacquisterò. Al secondo posto metto, questa è la calendula della C.N. Nature, anche questa l'ho presa da Lidl, anche questa è una marca biologica economica, la profumazione, lo stesso ottima, forse anche un po' troppo intensa, tant'è vero che dopo un po' cominciava a darmi noia, forse un pochino troppo oleosa, abbastanza buona, però rimaneva un pochino unta, quindi per questo non mi sento di promuoverla a pieni vuoti. È comunque una crema abbastanza efficace e la crema forse che mi è piaciuta un pochino di più, anche se non è stata proprio la mia crema ideale per le mani, è questa della Biolis Nature che ho preso da Tigotà, questa è della linea Burro di Karité, azione protettiva e la profumazione mi piace tantissimo, forse quella che mi piace di più delle tre, perché ha la profumazione proprio della linea Burro di Karité e la Biolis che a me fa abbazzire, di solito ho utilizzato di questa linea il bagno schiuma, che mi è sempre piaciuto e anche la crema magna ha la stessa profumazione, quindi come profumazione mi piace tanto. Come tipo di crema era abbastanza idratante, però anche questa devo dire che non è stata una delle creme migliori che io abbia mai provato, sono comunque tre marche economiche, quindi non mi aspettavo chissà che cosa, forse le consiglierei in generale queste creme per i periodi non particolarmente freddi, perché non sono particolarmente protettive, però come idratazione più o meno ci siamo, è la prima che veramente, se non la mettevo era meglio. Poi per quanto riguarda il corpo, promuovo, mi piace tantissimo, è piaciuta tantissimo questa body lotion alla Melissa della Benecos, questa mi ha regalata Martina, Marti l'angolino magico, 150 ml, una crema molto molto lipida, appunto proprio una lozione, più che una vera e propria crema, in una profumazione fresca, appunto proprio alla Melissa, veramente leggera, perfetta per l'estate, si stendeva velocissimamente, si assolviva e manteneva comunque la pelle idratata. Forse per le gambe, che io ho un pochino più secche rispetto al resto del corpo, non era sufficiente per una idratazione profonda, però io l'ho utilizzata prevalentemente sulla parte superiore del corpo, quindi sulle braccia, sulla pancia, sul gusto, perché mi piace proprio il profumo e devo dire che mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Un'altra crema che adesso ho terminato come crema corpo, piuttosto che come latte doposole, questo latte doposole al Monoi della Tea Natura, l'ho comprato quest'estate per utilizzarlo appunto come doposole, mi è piaciuto tanto perché non ungeva particolarmente il corpo, quindi l'estate che era caldo, anzi quest'estate che è stato caldissimo, non mi ha dato fastidio appunto avere una crema sul corpo, perché si assorbiva in maniera veloce, idratava e lasciava la pelle viccia con un buon profumo. Questa aroe, iperico e crusca di riso, ad azione idratante redditiva, ripeto l'ho terminato come crema corpo, soprattutto per le gambe e per le braccia. Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, dove li ho messi, l'ho spostato qua e quelli qua, sono due bagno sfumati, non sono per niente Ego Bio, sono della marca Bionique, questo mi l'ha regalati mia mamma quest'estate, in realtà ce l'ha regalati tre, tre, quattro. Allora, questo Ice Lemon era di Luigi, mentre questo Soft Petal l'ha regalato a me. Devo dire, come profumazione ho preferito di gran lunga l'Ice Lime, no l'Ice Lemon, l'Ice Lime. La profumazione è buonissima, non ricordo un profumo da profumeria, non so se addirittura c'è adoro, non ricordo, un profumo fruttato, fresco, allo stesso tempo quasi affumato, buonissimo. Peccato che gli ingredienti siano penosi e la cosa ok, che per quanto riguarda i prodotti a risciacquo, alla fine non sono per noi, per il corpo, particolarmente nocivi, perché non rimangono, non penetrano a fondo, però comunque sono nocivi per l'ambiente, perché qua ci sta il San Ipeg, il Disodium e il DTA, ci sta il Concamide Dea addirittura, insomma, non mi sono piaciuti per niente questi ingredienti, li ho utilizzati perché comunque mi erano stati regalati, mi piaceva buttarli o sprecarli, però se devo essere sincera, sicuramente non li ricomprerei, sia perché sono abbastanza costosi come tipo di prodotti, penso ci fosse una promozione, tipo di pagare 7 euro, 7,50 euro, però insomma non sono ingredienti che mi piacciono, però devo dire che la formulazione, pur avendo tutte queste schifezze, non mi seccava particolarmente la pelle, anzi la lasciava abbastanza liscia, però lo sapete, io non hanno questo tipo di prodotti, quindi sicuramente non li ricomprerò, poi ho terminato purtroppo la crema per i piedi, Baobab, che in realtà è un vero e proprio balsamo per i piedi, al primo posto c'è l'olio di oliva e questa cosa mi piace tantissimo, sia perché ha una grande affinità con la pelle, sia perché ha una buonissima profumazione, io ci sento proprio l'olio di oliva che mi fa impazzire, sapete che Martina Gebhardt è una crema che è una marca che a me piace tantissimo e sono sicura che più la li riacquisterò, questa è una full size da 50 ml, non so se esiste il 100 ml, non mi pare, questo l'avevo provato in taglia piccolina da 15 ml, mi è piaciuto tanto e ho deciso di acquistare poi la taglia grande. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto e che sicuramente riacquisterò è questo intimo a pH 3,5 della Omnia Laboratoire, questo antiodore lenitivo con antibatterici naturali, infatti c'è all'interno il titri e c'è la malva officinale, questo è ottimo, ha indicato durante il ciclo mestruale, il postpartum, i viaggi, la palestra in caso di odori intensi, non è il mio caso, però l'avevo preso proprio per il postpartum, mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro è uno degli unici, credo, detergenti ecobiologici, almeno che si trovano nella distribuzione, che abbia un pH 3,5, l'odore buonissimo, fresco, ne bastava veramente una goccina, faceva tanta sfuma, veramente un ottimo prodotto, ve lo consiglio sia in tutti questi casi che stanno scritti qua dietro, sia in generale come detergente intimo, perché è veramente, veramente buono, lo poso qua e mi prendo questa bustina di Salgaslippi in cotone, della Copp, sono questi ripiegati, io li ho acquistati appunto alla Copp, insieme a quelli distesi, sono prodotti che ho riacquistato più volte nell'arco dei mesi, perché mi sono trovata bene e sono molto contenta perché l'ultima volta che sono stata alla Copp ho visto che ci sono anche quelli della pipi verde in cotone biologico, li ho acquistati, ancora non apro la confezione perché sto terminando quelli uguali a questi distesi, una volta che li terminerò, proverò anche quelli in cotone biologico, la cosa mi fa tanto tanto piacere perché non hanno un costo eccessivo, costano un po' di più di questi normali, però appunto sono cotone biologico, a me fa sempre piacere, cioè li preferisco come tipo di Salgaslippi. Ora ho terminato tantissimi gustini, in realtà molto più di queste, di quadrotti, di ovali, di tondi, ok? Uno, questo qua mi era piaciuto tanto, quadrotti struccanti seta blu, mentre ce n'era un altro, che però non ritrovo, che erano sempre quadrati, che li avevo odiati perché si spaldavano tantissimo e non mi erano piaciuti. Tanto questo è un ottimo prezzo, 99 centesimi, mentre costanti cotton plus 1,20 euro, comunque 100% cotone made in Italy, e cotoneve, che inizialmente non li avevo apprezzati tantissimo perché avevano il bordino abbastanza spesso, abbastanza duro. Penso abbiano cambiato la formulazione, tra virgolette, perché appunto con questi ultimi che ho comprato questo ruolo mi dava fastidio, mentre la prima volta che li avevo acquistati sì. Però questi sono 50, questi sono 40 ovali, questi sono 50, quindi forse i più convenienti sono questi qua, 50, 99 centesimi. Non ritrovo gli altri, forse li ho acquistati, non so. Un altro prodotto che non mi ricordo se vi ho già mostrato, forse sì, è questa Tabs per i piedi, che mi ha regalato Valentina, la signorina Rottermalia, a me è piaciuto tantissimo. Questa è la seconda che ho utilizzato, è stato veramente un prodotto che mi ha stupito, soprattutto per la profumazione. Al mandarino, di solito non amo il mandarino, però questo non sai di mandarino, ma di mandarancio. Ha un odore diverso dal mandarino. Convenite con me su questa cosa. Il mandarino ha un odore, il mandarancio ha un odore diverso che a me piace molto molto di più. Però qua c'è scritto, ah forse mandarino orange, chissà se significa mandarancio, chiedo forse a Valentina. Devo chiedere a lei, non so, perché non sa, né di mandarino né di arancia, quindi è un'aria di mezzo. Sa di mandarancio che a me piace tantissimo. Poi, per quanto riguarda invece il corpo, penso da perfunto o no, c'è questo odorante alla salva veleta, che mi dispace tantissimo per terminare, perché è il mio, come si chiama, odorante preferito, anche se ho trovato un valido sostituto per di più di una marca italiana, mi piace tantissimo e costa la metà. Ve ne parlerò presto, l'ho acquistato recentemente nel negozio Green Actual dell'Aquila, perché è andata a fare degli esami e sono passata a salutare Marta e ho voluto provarlo perché lo puntavo da un pochino, fortunatamente ce l'aveva e quindi ho deciso di comprare, lo sto utilizzando già da una ventina di giorni e mi sta piacendo tantissimo. Poi, per quanto riguarda invece i capelli, voglio mostrarvi questo shampoo semi di lino capelli secchiari della Bottega Verde, questo è un regalo che avevano fatto a mia madre e lei me l'ha passato a me, perché lei è solita utilizzare altri prodotti, l'ho utilizzato una volta soltanto per provarlo, me l'ha finito di seccare veramente pessimo. Non per capelli secchiari, di qua ci doveva sta scritto, per rendere i capelli secchiari, veramente pessimo. Come al solito tutti i prodotti che non mi piacciono appioppa Luigi, soprattutto questi che non sono ecco per oggi, comunque prodotto bocciato assolutamente no, no e poi no. Un altro prodotto che ha utilizzato Luigi è lo shampoo senza lacrime della Chicco, questo ce l'avevano regalato per Sofia però non ci piacevano gli ingredienti soprattutto a me e quindi se il bagno schiuma che è lo shampoo l'ha utilizzato Luigi, gli è piaciuto soprattutto per la profumazione però pure questi capelli non è che li rendeva particolarmente morbidi. E poi per quanto riguarda Sofia, voglio mostrarvi innanzitutto queste due creme Veleda e la Calendula che vi ho già mostrato in altri video, queste sono appunto quelle terminate, c'è un'altra di là invece che sta a metà, una me l'ha regalata, una l'ho comprata io, una me l'ha regalata Veleda, un'altra me l'ha regalata Roberta e sono creme che a me faccio tantissimo e continuo ad utilizzarle ad acquistarle non soltanto per Sofia ma anche per me se ho delle imperfezioni semplicemente degli rossori, soprattutto adesso che è più freddo, io ve la consiglio perché è una crema ottima. Poi a me è piaciuto moltissimo il bagno delicato corpo e capelli della Gently, questo è un prodotto biologico che si trova al Todis, costa pochissimo ed è veramente ottimo, se ha la profumazione perché è proprio delicata delicata mi fa impazzire, mi piace tantissimo perché non è troppo forte, non è troppo intensa e non è troppo talcata, di solito i prodotti per il bambino è sempre il sudore di talco che a me non è che mi fa impazzire, invece questo è veramente buono come tipo di prodotto e come tipo di profumazione, non fa tantissima schiuma quindi è facile anche da risciacquare, io ve lo consiglio anche come bagno schiuma, come detergente per il viso per voi perché è veramente molto molto delicato. Poi per i capelli voglio menzionarvi questi due shampoo al verde, allora quello lucidante qual è? Questo è il nutriente, non mi era piaciuto tantissimo perché mi rendeva i capelli un pochino secchi, invece questo qui dovrebbe essere quello illuminante in qualche modo che rende i capelli un po' più luminosi e questo mi era piaciuto un pochino di più, le profumazioni tutte e due buonissime, le ho utilizzate sia io sia Luigi, anche i flaconcini sono ottimi perché sono piccolini, sono 250 ml quindi sono delle mini taglie, anche questi mi aveva regalato Valentina, quindi grazie per avermi fatti provare perché ero curiosissima. In realtà avevo anche due balsami delle stesse due linee, però non mi sono piaciuti tantissimo perché avendo il capello riccio, non particolarmente crespo, però non mi districavano bene i capelli, non li ho apprezzati tantissimo, questo devo essere sincera, soprattutto questo qua, il balsamo di questa linea qua, questa forse non fa per me questo tipo di linea perché mi seccava un po'. Poi sempre per quanto riguarda Sofia, o meglio me e Sofia, voglio mostrarvi questi tre tipi di coppette assorbi latte, voglio parlarvi nei due minuti appunto a fine video. sono della Chicco Crescendo, della Cop e questa è della Neo Baby. Le prime che ho utilizzato sono queste della Chicco perché me le hanno regalate, devo dire che non mi sono piaciute particolarmente e anche gli ingredienti non mi piacciono. In generale la Chicco non è una marca che a me piace, né per Sofia né per me, tra l'altro costa tanto e non ha grandissime prestazioni, non è poi particolarmente natural feeling, ma insomma fino a un certo punto, non lo so, non le ho trovate molto molto comode, quindi non me le consiglio sinceramente. Anche queste non mi piacciono, queste perché si staccano, sono forse le peggiori delle tre, le tre tipi, queste Neo Baby le ho trovate da Tigotà e siccome non potevo andare fino alla coppa di comprare queste che sono per adesso quelle che mi piacciono di più, ero da Tigotà e quindi ho acquistato queste. Proprio queste non mi piacciono, queste sono confezionate singolarmente, così come quelle della Chicco, queste ce l'ho ancora, non le ho terminate, però volevo mostratene insieme alle altre perché almeno vi faccio un minimo di paragone. Forse tra queste due quelle della Chicco sono un pochino meglio, però guarda, non lo so, queste due non mi convincono particolarmente, forse queste sono quelle un po' più scomode perché non si attaccano molto bene, si spostano, non mi sono piaciute più di tanto, soprattutto la vetina che c'è sopra si stacca dal resto, quindi è fastidiosa. Mentre le migliori sono quelle in realtà sono le più economiche, sono queste della crescendo della coppa e la cosa comoda è che sono abbastanza grandi, quindi coprono bene tutto quanto il seno e rimangono ben aderenti, quindi la parte quella adesiva fa la sua funzione, quindi fa aderire bene la coppetta al reggiseno e soprattutto in una bustina ce ne sono due, quindi sono comodissime anche da portarvi dietro le borse oppure nella borsa del cambio pannolino, nella borsa della palestra, ma pure se andate in retta, prendete una bustina, ce ne sono già due, molto più pratico, molto più confortevole. Queste sono infatti, c'è scritto, sono bustate a coppie, sono ipallergeniche dermatologicamente testate e ce ne sono 60. Sono fatte così, sono tonde, una parte rosa e una parte bianca, quindi a differenza delle altre che hanno una sbordatura che dovrebbe essere tipo un elastico che è scomodissimo. Queste sono completamente tonde e sono quelle che mi sono piaciute di più. Ok, il mio primo video dei prodotti finiti finisce qua, qui vi ho parlato dei prodotti corpo e capelli e Sofia, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Tenete doppio il canale perché a breve pubblicherò anche il video dei prodotti finiti però dedicati al viso. Ho deciso di dividerli perché quando sono tanti tanti prodotti non voglio annoiarvi con un video lunghissimo che dura casomai mezz'ora o quaranta minuti. Io vi abbraccio forte, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!